René, cosa puoi dire nel tuo debut di Fombolet? Era molto divertente, ma il risultato non c'era. Ho perduto la ruota in primo lapso. Alguien mi ha chiesto da parte, e dopo questo, il risultato è finito in termini di risultati. Ma ho avuto molto divertente. Abbiamo usato solo una sessione di pratica. Abbiamo cercato di fare tantissime cose possibili, solo per ottenere l'esperienza che funziona. Ma ovviamente il risultato non c'era. E' la prima volta che fai in realtà la Fombolet? Si, è stata la prima rata. La prima volta che ho fatto la rata e la rata, che era abbastanza interessante. Ho aprendo molto di nuovo. E' stato divertente. Ok, grazie.